Ok, vedo altra gente là sopra No, mica Oddio rega, ma che stanno a fare? Cosa sto vedendo con i miei occhi? C'è veramente ragazzi una cosa che non mi è mai successa in tre anni di Fortnite Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno dell'idem shop Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice creatore fort, così come vedete a schermo Poi accettate E da ora ogni acquisto che farete Mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok, allora io non ho mai incontrato Wolverine E non ho mai utilizzato il suo potere In qualche video è capitato di trovarlo Ma non l'ho mai voluto utilizzare perché appunto non sapevo come funzionasse Però oggi vi son detto Buongiorno da Mondel No, in realtà mi sono detto Ok, proviamo effettivamente a provare questo potere Cerchiamo Wolverine E vediamo se ci rompe la testa Oppure se riusciamo effettivamente ad eliminarlo E quindi diciamo farci andare meglio la situazione del tutto Allora, quindi cerchiamo un'arma decente Perché con la mitraglietta Per tutto il bene che non voglio Con la mitraglietta Direi che sia il caso In realtà di puntare a qualcosa di più utile Per esempio io già non ho idea di dove Sia il tipo che mi sta per arrivare addosso E credo che utilizzi le scale E infatti utilizzerà le scale Ma noi siamo più belli E quindi lo eliminiamo Ha un fucile a pompa comune Va bene così Però questo flopper per esempio Me lo prendo volentieri C'era un flopper Si è bagato dentro Lo vedo, lo vedo Ok, a posto Non sono ancora stupido Ah, tra l'altro qui ci sono i pezzi di torta Perché sono tre anni di Fortnite Ho visto Ragazzi, tre anni di Fortnite Guardate che noi portiamo video dall'inizio proprio di Fortnite Perché io gioco la season 1 E tanta roba, tanta roba Ci mandiamo un po' di fette di torta Che anche se sono buone per la dieta Giuro Al mio dietologo in realtà non li ho mangiate Giuro eh E quindi, allora Direi di cercare un attimo Wolverine So che sta a Vipimoods So che sta in questa zona Ma di preciso ragazzi Non credo si possa sapere perché si muove di continuo ed è anche abbastanza veloce Però sento degli spari Continui Quindi io sono nemici o Wolverine? No, no, sono nemici E vabbè Un po' smirati Credo però sia un bot Sbaglio Ma sono due bot Sì sì ragazzi sono due bot Aspettate Ce li eliminiamo Cercando di non farci fare troppo grande Perché erano appunto due bot Esagerare Con i danni subiti Sarebbe stato un po' stupito E ci sta Un bello shield potion Grande E poi vorrei cercare quelle piccole Prima in realtà di farmi quella grande Perché a questo punto non credo Abbia molto senso Mi ragazzi Cioè Abbiamo la nostra carissima skin Della season 1 Perché questa mi pare sia season 1 Alle cerca di Wolverine Bella imperterrida Con il suo fisicasio Bella pronta Solo che Solo che non so di preciso la zona Ve l'ho detto ragazzi Quello si muove Non sta per forza nella zona centrale Dove stanno Queste case Tra l'altro ragazzi Sta un tipo qua dentro L'ho sentito Vengo un attimo di curarmi Senza farmi sgamare Anche se credo che a breve Mi raggiungerai infatti Ok Era un bot Credo anche questo Meno male Va bene Prendo anche ricarica ragazzi Perché quello del nonno Non lo preferisco tanto Quindi non fa niente Mi tengo questo fucile a pompa Prendiamoci le crash pad E cerchiamo un attimo Un attimo Questo Wolverine Perché Strano che Per ora Non si sia sentito Né uno sparo Né niente Perché Mi aspettavo che fosse Molto più semplice Incontrarlo Invece Credo che sia anche Una questione di fortuna A questo punto A meno che non l'abbiano Già eliminato Anche se Mi farebbe Piuttosto strano Insomma Però sento dei passi Qua L'abbiamo trovato Raga Calmi calmi Mi ha visto No No Wolverine Wolverine G'è bisogno Non c'è bisogno Ma no 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 Ragazzi Mi ha levato 50 Stiamo scherzando Raga mi ha levato 50 No io spero sia una battuta di pessimo gusto Ma mi ha seriamente levato 50 C'è ma ha guardato storto Calmi tutti Calmi tutti Wolverine 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 Non c'è bisogno No raga io questo Non ci posso stare vicino Per piacere Cioè Calmo Calmo Aspetta Fermo così Bam un paio di headshot Ok Ok Forse serve più di un paio di headshot Serve più di un paio di headshot Fammi uscire Mi sono chiuso da solo Ok Calmi tutti Mi faccio un attimo le pozze piccole Perché abbiamo capito che il tipo È un po' burrascoso Ecco ma Wolverine Nel film come cavolo si faceva A far calmare Non me lo ricordo Anche se Questo è quello dei fumetti Non è neanche quello del film Quindi Non è proprio Logan Diciamo Ma quanta vita Fra Aspettila Lasciami stare No no raga No sono seriamente nel panico Prima stavo un attimo Mamma mia meno male Prima stavo un po' esagerando Ma Finalmente Fratelli Stai incazzando nero Stai incazzando tra l'altro Qualcuno che si lenta Che significa Ma che lenta No no sono morto Sono morto Sono morto Mi ha eliminato Mi ha eliminato Sono morto ragazzi Sono seriamente morto Guarda guarda Mi faccio eliminare da Da un bot Guarda mi faccio eliminare No 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 Questo mio mi elimina No ragazzi Ho dieci di vita A parte che se mi vede mezzo nemico Sono vero Ma come funzioni Ok ragazzoli Allora insomma Cioè il primo monetario È andato bene Vinta Non per me Ma vinta comunque E che dice il contrario Ha ragione In realtà vedo Una, due, tre, quattro, cinque, sei Sei persone Solo a vivibus Ottimo Start Proprio quello di cui avevamo bisogno Allora calmi Mi serve subito un'arma Non perdiamo tempo No sono sceso però Questa non era una grande cosa Calmi devo subito risalire Piano terra Non ci voglio stare in questo caso Una cosa di decente qua Pamp Accetto volentieri Grazie mille Qui niente Vabbè ci abbiamo un po' di legno Ok Deve di metterci subito all'opera Perché ci sarà un botto di gente Vorrei evitare di tryhardare troppo Però se non ci sbrighiamo Sarò costretto a farlo Quindi Allora fortunatamente Proprio in zona in zona Vicinissimo Non è venuto nessuno Però A breve ci raggiungeranno inevitabilmente Perché poi si cominceranno A distribuire un po' ovunque Peccato Ah no Pozze grandi Pozze piccole Avevo trovato anche quelle prima Ok Ero convinto di esservi Fatto una pozza grande Allora calmi tutti Prendiamoci questo Ok Direi che siamo anche pronti Per fightare Volendo 28 28 Dai 28 28 E dai Bella così Ok Il tizio è eliminato Qualcuno con un'auto Mi è comparsa un'altra auto Di fronte Ma va bene Mamma mia Un'esplosione ha fatto saltare in aria Mezzo bosco Ma che Sagreto d'Amber Che è pronta a menarmi Praticamente Vabbè Lasciamo stare Come se non fosse successo niente Non ha assolutamente capito Io dove mi trovi Cioè Non gli è proprio chiaro E la cosa sinceramente Mi fa piacere Muori Ma seriamente Non si è fatto niente State scherzando Spero Trenta Trenta Nedshot Ma il gioco mi prende in giro Il gioco mi prende in giro Trenta Nedshot Ragazzi Non ce la faccio più Ma se i fucili e pompa Funzionano solo agli altri Decide solo lui Quando devono fare Danno I fucili e pompa Trenta Attenzione calmi Elicottero in zona Dovrebbe Darsi che Ora è molto più vicino Sì Anzi credo che si sia fermato Molto vicino Sì Nella zona di fronte Dove stanno fightando Tra l'altro Un po' di persone Immaginate trovare Wolverine Ora Sarebbe quasi un bel casino Più che un vantaggio Vabbè frate Ripato proprio Vabbè ci ho provato Ma quanta gente ci sta ancora Lassopra Ragazzi Veramente sta Sta un botto di gente Uno sta in safe No Calmi Non conviene fare ora Dai Ok è morto Però se lo sparo Ha solo vita Ha solo vita Dai che lo faccio male Dai che lo faccio male Lo faccio cadere Godo Godo un sacco Ok raga Prendiamo il corso d'acqua E andiamocene Anche se forse Prima avremmo potuto utilizzare Il thermal fish Per vedere dove era Wolverine Anche se ormai Credo che sia bello Che è andato Ma io volevo Wolverine Dove è andato Cosa gli hanno fatto Però se trovo i suoi poteri Dopo Veramente Sbrocco Perché dico Come è possibile Cioè scusatemi Come se lo sono eliminato Dove ero io Solo che Cioè È tutta una questione di probabilità Vado a trovare pure qua Io non lo vedo ragazzi No credo che Sia rimasto indietro A meno che non l'abbiano eliminato Quello è l'unico mio dubbio Ok vedo altra gente Lassopra No Mica Oddio raga Quanto Ma che stanno a fare Ma che Ma che Scusatemi Cosa sto vedendo con i miei occhi Cosa sta succedendo No Ragazzi sono seri No ma Che significa questa cosa Cosa stanno facendo Ma Cosa Ho Visto Cosa stavano facendo Tutti questi tipi Stavano tutti editando Stavano facendo un gunfight Cos'era Cos'era Tutto questo Ah era una massa di traiardoni Tutti qua Tutti qua a divertirsi Capito Cioè State scherzando Spero Cioè Spero che voi stiate scherzando Se Cosa scusami Non credo di aver ben compreso Quello No 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 Ho compreso io male Per forza Cioè Non c'è altra soluzione No E ho compreso per forza io male Cioè Sicuro Mamma mia dai Ma era l'ultimo Ma cosa è stato Cosa è stato Questo game Io volevo solo trovare Wolverine Mi sono trovato A caso Cioè loro stavano Fondamentalmente Facendo nulla Si stavano Facendo tutti quanti Edit a vicenda Ma erano 5-6 persone Tutti i compagni Ma what Cioè veramente ragazzi Una cosa che non mi è mai successa In tre anni di Fortnite Grazie a tutti